Una quindicina di giorni fa dicevo che avrei fatto altre pillole sull'agnosi. L'agnosi è quel movimento di pensiero elitario che ritiene la carne cattiva. Noi dobbiamo liberarci dalla carne per raggiungere lo spirito, il puro spirito. Da qua tutte le dottrine che favoriscono il suicidio, il suicidio assistito, l'eutanasia. Perché? Perché bisogna farla finita con la carne il prima possibile. Perché? Perché Dio è creatore della carne, se è creatore della carne è un Dio cattivo, così pensa l'agnosi, è un Dio cattivo che ci vuole limitare. Noi invece per carità siamo a favore del Dio buono che ci vuole i liberi, puri spiriti. Capite bene da dove viene questa teoria. La Chiesa ha sempre combattuto questo pensiero gnostico che pretende di gareggiare con Dio nella creazione della realtà, supponendo che questa creazione fatta da Dio sia cattiva, quando è buona. Lo dice chiaramente la Genesi. Dopo ogni giorno in cui Dio crea il mondo, vide chi era cosa buona, vide chi era cosa molto buona, la creazione dell'uomo con la sua carne. Gesù è venuto per salvarci e per permetterci a noi tutti insieme, corpo, animo e spirito, di risorgere. Di risorgere e diventare addirittura figli di Dio. Allora, dicevo, dall'inizio della sua storia, la Chiesa che è sempre stata insidiata dal pensiero gnostico, cioè da Satana che si infiltra all'interno della Chiesa, perché la Chiesa è il corpo di Cristo, Satana detesta Cristo, pertanto detesta anche la Chiesa. Fin dall'inizio della sua storia, la Chiesa ha sempre combattuto il pensiero gnostico. Così tutti, dico tutti gli autori del Nuovo Testamento. L'Apocalisse bolla queste dottrine, le profondità di Satana, come le chiamano. Giovanni, Pietro e Paolo invitano a non andare oltre gli insegnamenti di Gesù. Perché? Perché la dottrina di Gesù è pubblica, è cattolica e non è esoterica, non è per pochi. È detta all'aria aperta. Al contrario di quello che vogliono far credere gli gnostici, la loro è una dottrina esoterica, cioè per pochissimi. Solo loro sono in grado di capirla e di propagarla, piano piano, con sotterfugi, con inganni. Giovanni, seconda lettera. Poiché molti sono i seduttori che sono apparsi nel mondo, i quali non riconoscono Gesù venuto nella carne. Questo è il punto. I seduttori condannano Gesù venuto nella carne. Non è possibile che il Figlio di Dio abbia preso questa schifezza di carne che abbiamo. ma non è possibile. Ecco il seduttore e l'anticristo, cioè quello che dice Gesù non ha preso una carne. Fate attenzione a voi stessi. Chi va oltre e non si attiene alla dottrina del Cristo non possiede Dio. Chi va oltre? Chi pensa di saperla più lunga? Paolo. Prima lettera a Temoteo. Lo spirito dichiara apertamente che negli ultimi tempi alcuni si allontaneranno dalla fede, dando retta a spiriti menzogneri e dottrine diaboliche, sedotti dall'ipocrisia di impostori. La seconda lettera. verrà giorno in cui non si sopporterà più la sana dottrina, ma per il prurito di udire qualcosa, gli uomini si circondiranno di maestri secondo le proprie voglie, rifiutando di dare ascolto alla verità per rivolgersi alle favole. Ecco, di favole noi siamo pieni. Ai giorni nostri pieni. Tutti quelli, e sono tanti i modernisti, tutti quelli che vogliono cambiare la morale cattolica perché non è alla pace, non è alla moda del tempo e quindi la morale sessuale, la miseria, ha cambiata. È bella l'omosessualità, è buona. E così continuando, è buono che un prete sia omosessuale. si possono ordinare donne, e perché no? Si possono ordinare vescovi omosessuali, e perché no? Si possono benedire matrimoni omosessuali. Ecco, questo, per esempio, il sinodo del concilio che sta facendo la Germania è questo, questa dottrina nuova nella Chiesa. La Chiesa da sempre ha combattuto queste dottrine nuove.